Sì o no? Secondo me no. Mi spiego, se dovesse arrivare una sconfitta pesantissima al termine di una prestazione scadente magari la società potrebbe ragionare su un cambio della guida tecnica. Però non credo, almeno per ora, almeno per ora, non mi sembra di vedere insomma tante ombre su Marino. Ripeto, se dovesse arrivare una bruttissima sconfitta il discorso potrebbe cambiare. Lo stesso discorso vale per Gautieri, allenatore del Varese. È velocissimo perché dobbiamo riandare in pubblicità.